Bukowski diceva che dobbiamo sempre scegliere tra una merda fredda e una merda tiepida. But in our hearts we know we're changed by what we've seen today. Do we stand and shout hallelujah? Or give in to our fears and turn away? Do we understand the gift that we've been given? Do we believe the things we've seen today? Sono in pena per i classici che si deteriorano, perché sono in pena per la mancanza di memoria.